Presentare i nuovi ingressi, che detto così sembra una cosa strana, in realtà l'occasione è, visto che ormai va di moda, che ogni partito presenta le nuove, mi è parso dal mio punto di vista come segretario, più che garbato, formalizzare degli ingressi che di fatto sono stati comunque presenti nel nostro partito.